Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video come state? Io spero che stiate tutti, tutti, tutti bene vi abbraccio fortissimo e teniamoci compagnia oggi con questo video un video che parla di profumi, di un argomento che vi piace tantissimo che accomuna tantissimi di noi e in particolare oggi vi mostrerò tutti i miei profumi Guerlain insomma non sto qui a parlarvi di Guerlain, è una delle case produttrici di profumi più famose nel mondo, fondata nel 1828 da Pierre Guerlain che negli anni ha creato delle meraviglie olfattive conosciute appunto in tutto il mondo questo è un video per il quale ho tratto ispirazione durante una conversazione con una mia amica dolcissima a cui voglio molto bene, lei è Mary, le mando un grossissimo bacio lei ha un canale qui sul tubo, lei è Vanilla Chic vi lascio giù nell'info box già il link così potete andare a cliccarci sopra e andare a trovarla sul suo canale perché Mary come me è una super appassionata di profumi lo fa, ne parla di profumi sempre in maniera molto carina, delicata, pacata è un modo di parlare molto molto rilassante quindi se siete appassionate di profumi mi raccomando andatela a trovare sul suo canale perché appunto fa tantissimi altri video ovviamente tantissimi altri argomenti ma principalmente essendo un'appassionata di profumi parla molto di profumi sul suo canale quindi mi raccomando andatela a trovare e parlando con lei durante una discussione appunto ho scoperto un'altra cosa di lei e cioè che è un'appassionata dei profumi di Guerlain quindi mi ha ispirata per fare questo video e ovviamente glielo dedico con tutto il cuore allora parliamo quindi dei profumi di Guerlain io inizierei dal profumo da cui è partito tutto nel senso che questo è stato il primo profumo vero profumo che io ho acquistato ed in realtà l'ho acquistato quando ero veramente molto molto giovane perché credo di non aver avuto neanche 20 anni e questo è un profumo che ovviamente non era secondo me adatto alla mia età era proprio un profumo più da donna matura però io in quel periodo avevo voglia proprio di indossare questi profumi vuoi perché stavo esplodendo proprio come donna volevo tirar fuori tutta la mia femminilità, la mia sensualità insomma erano gli anni in cui nascevano i primi amori per cui il profumo faceva anche parte di questa danza della seduzione e sto parlando del Samsara che io ho in questa nuova versione e nella versione Eau de Toilette e ovviamente la versione che io ho acquistato in quegli anni era proprio la versione che adesso in questo momento innanzitutto era l'Eau de Parfum ed era la versione che in questo momento non si riesce più a reperire comunque fisicamente nelle profumerie ma che si può tranquillamente trovare online ma ha dei prezzi insomma esorbitanti quindi io mi sono accontentata di acquistare questa nuova versione che certamente è stata riformulata perché non ritrovo più il mio amatissimo profumo ma che ovviamente me lo ricorda, me lo ricorda veramente tanto allora questo è un profumo che Pierre Guerlain adesso non mi ricordo l'anno, lo devo andare a cercare perché sinceramente non me lo ricordo allora fu creato da Pierre-François Pascal Guerlain nel 1853 per l'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III e aveva come simbolo questo profumo il simbolo dell'impero, l'ape che poi è diventato l'emblema della Maison Guerlain tant'è che viene proprio, vedete, riprodotto in questo flaconcino ci sono tutte le apine allora questo è un profumo magico questo è un profumo del quale io mi innamoro mi rinnamoro ogni volta che lo indosso non è che io me ne dimentichi totalmente quando non lo indosso però quando lo vado a cercare è nuovamente la rinascita di questo amore un modo di riscoprirlo sempre diverso un modo per custodirlo per nutrirlo, quest'amore nei confronti di questo profumo che io amo follemente perché ha rappresentato un'era per me ha rappresentato proprio un periodo importante probabilmente il più bello quello della scoperta di se stessi sia nello spirito che nel corpo è un profumo che nasce per una donna che vuole essere sensuale affascinante, misteriosa è un profumo con delle note meravigliose infatti qui sul sito di Guerlain dice che è per una donna che ha ritrovato armonia ed equilibrio quindi spirito e corpo grazie alle materie prime che compongono la fragranza il legno di sandalo puro il gelsomino che fino ad allora era stato utilizzato solo per le offerte religiose fu quindi Pierre Guerlain ad utilizzarlo proprio per la creazione di un profumo adesso vi vado a leggere se le trovo le note olfattive allora le note olfattive dell'Eau de Toilette sono allora questo è un profumo che è stato lanciato poi sul mercato nel 1989 le note di testa sono le note verdi la pesca l'ilanglang il bergamotto e il limone diciamo che tra le note di testa quello che io probabilmente percepisco di più oltre alle note verdi è proprio la nota del limone poi abbiamo le note di cuore classiche insomma anche nei profumi di Guerlain abbiamo l'iris e la violetta il gelsomino un gelsomino che ahimè rispetto alla formula quella diciamo degli anni appunto degli anni 80 è meno presente meno corposo meno denso poi abbiamo la rosa e il narciso le note di base sono l'iris il sandalo la fava tonca l'ambra il muschio e la vaniglia quindi diciamo che fondamentalmente è un profumo al gelsomino ripeto un gelsomino che ritrovo meno in questa versione però è molto molto simile ecco nel senso cioè quando io lo vado ad indossare è ovvio che ho questa questa emozione questa forte vibrazione che mi riporta a quegli anni perché comunque quella è la creazione non è bella presente bella corposa bella persistente come in quegli anni però certamente lo ricorda tantissimo ed è il profumo che ha aperto un po' ai miei occhi al mio spirito al mio naso la via per il mondo verso il mondo dei profumi quindi un profumo a cui sono molto molto legata molto affezionata legato a ricordi di spensieratezza di libertà di sogno di progettualità ero molto più propositiva in quegli anni ma tutti quando abbiamo vent'anni siamo più propositivi l'andiamo a perdere questa cosa a mano a mano che il tempo scorre non dovrebbe succedere questa cosa però io mi ripropongo dopo l'esperienza i giorni che stiamo vivendo in questo momento di non sprecare nessun giorno della mia vita di renderlo sempre propositivo di progettare e di guardare al futuro con occhi sognanti come quando avevo vent'anni e questo profumo è un profumo che mi fa sentire così quando lo indosso è un un fiorito è un fiorito molto dolce ma anche con un aspetto un aspetto legnoso un aspetto anche molto talcato perché abbiamo appunto l'iris abbiamo la violetta e in questo profumo c'è tutta la storia appunto della Maison Guerlain profumo veramente per quanto mi riguarda il profumo è il profumo simbolo secondo me della Maison Guerlain e sto parlando di Shalimar questa meraviglia che ha una boccetta strepitosa di un'eleganza pazzesca tra l'altro questa boccetta proprio vinse il primo premio alle arti decorative di Parigi ed è una boccetta completamente ispirata alle fontane dei giardini Shalimar proprio le sue curve rappresentano proprio le fontane mentre il tappo così a forma di ventaio azzurro rappresenta proprio gli zampilli di queste fontane la parola Shalimar in sanscrito significa tempio dell'amore e quindi questo profumo è proprio l'emblema il simbolo dell'amore infinito Jacques Garlen diceva sempre che indossare Shalimar voleva dire farsi totalmente inebriare dai sensi e per la creazione di questo profumo fu ispirato da una storia meravigliosa d'amore tra un imperatore indiano e la principessa Mahal per la quale l'imperatore appunto fece creare i giardini Shalimar a cui il profumo è ispirato e fece anche costruire in seguito il meraviglioso e famosissimo tempio indiano Taj Mahal che è oggi una delle nuove sette meraviglie del mondo allora questo profumo questo profumo è il profumo proprio della sensualità è il profumo del proibito il profumo del mistero caldo avvolgente liquoroso questo è un profumo spettacolare questo è un profumo innanzitutto che io indosso e comunque credo che sia un profumo proprio invernale perché quando indosso questo profumo non mi vedo mai in costume o con un abitino svolazzante questo è un profumo che mi fa pensare a qualcosa di molto caldo quindi un bel maglione col collo alto una bellissima sciarpa avvolgente magari non so davanti a un camino o durante non so una passeggiata diciamo in un paesaggio innevato ecco mi fa comunque pensare a degli scenari invernali quindi in cui anche il profumo deve scaldare così come una coperta così come un maglione così come una sciarpa è certamente un profumo molto presente un profumo molto molto speziato ma allo stesso tempo dolce e talcato perché nel trascorrere le ore durante la giornata quando lo indosso lo sento evolversi lo sento trasformarsi lo sento addolcirsi e fondersi totalmente con la mia pelle vi vado ovviamente anche a leggere quelle che sono le note olfattive allora questo è un profumo del 1925 il naso Jacques Guerlain le note di testa sono gli agrumi il mandarino il cedro il bergamotto e il limone devo dire un'apertura in cui io sento tantissimo questi agrumi ma soprattutto sento il cedro poi abbiamo note di cuore di iris di paciuli gelsomino vetivè e rosa le note di base sono il cuoio il sandalo l'opoponax il muschio lo zibetto la vaniglia l'incenso e la fava tonca quindi comunque già dalle note olfattive si intuisce che è una creazione molto sontuosa molto opulenta carnale vibrante quindi abbiamo una testa in cui fondamentalmente percepisco il cedro poi un cuore in cui sento poco il gelsomino ma sento moltissimo il paciuli e il vetivè e poi sul fondo io trovo che questo fondo sia molto talcato sento molto la fava tonca sento tantissimo tantissimo l'incenso e su di me diventa davvero dopo questa apertura e un paio d'ore in cui il profumo è veramente presente ed è veramente intenso io sento che poi si affievolisce ma non nel senso che si disperde ma diventa veramente molto più leggero più delicato più talcato ultra ultra femminile profumo storico quindi veramente un super una super super e questo momento in poi cambiamo totalmente registro perché gli altri profumi di cui vi parlerò e che vi mostrerò sono completamente diversi dai primi due perché sono dei profumi un po' più ariosi più freschi più gentili più dedicati alla stagione che sta arrivando quindi all'estate e a quella che stiamo vivendo in questo momento che è la primavera sono dei profumi che ci invitano a pensare positivo ad essere ottimisti dei profumi proprio del buon umore del benessere che ci aiutano appunto ad avere uno spirito un po' più gioioso allora il primo di cui vi parlo è il Mongerland che io possiedo nella versione Eau de Toilette anche questo un profumo molto famoso un profumo che ha conquistato un po' tutti quando è stato lanciato sul mercato e del quale vi vado subito a leggere le note olfattive allora Mongerland vi stavo dicendo nella versione Eau de Toilette è un profumo floreale agrumato e leggermente aromatico lanciato sul mercato nel 2018 abbiamo note di testa di mandarino lavanda e bergamotto la cosa che mi dispiace tanto di questo profumo è che io la lavanda non la sento per niente ed è una nota che a me piace veramente tantissimo poi abbiamo un cuore di gelsomino sambac fiori d'arancio e ilang lang e anche in questo caso io non percepisco tantissimo l'ilang lang in questo profumo quello che sento di più certamente è il fiore d'arancio infatti quando si spruzza diciamo che la lavanda è poco percepibile è più un insieme di cose sento maggiormente sia il mandarino che il bergamotto poco la lavanda mentre le note di base sono la vaniglia di Tahiti il benzoino l'iris la violetta e il caramello in questo profumo mi manca qualcosa ci sono delle note che mi piacciono moltissimo ma che io personalmente questa è una cosa soggettiva al mio naso non riesco a percepire la nota di caramello non la sento non sento come vi dicevo la nota di lavanda sento poco l'ilang lang ma sento tantissimo il fiore d'arancio diciamo che poi questo profumo si assesta sul classico fondo Guerlain una vaniglia ma una vaniglia leggermente talcata con questi sentori di iris e di violetta è un profumo che comunque mi piace moltissimo è un profumo leggero delicato molto romantico perfetto per la primavera e questo è un profumo che certamente indossandolo viene in mente subito qualcosa di arioso di leggero mi immagino con un abitino a fiorellini leggero leggero svolazzante infradita una ciabattina leggera quindi mi trasmette una sensazione proprio di libertà anche fisica libertà dai maioni a collo alto libertà dai giubbotti è un profumo veramente molto molto leggero brioso e arioso ha una buona persistenza una persistenza media è molto molto gradevole il classico profumo che possiamo indossare dal mattino alla sera senza destare particolare attenzione è un profumo molto intimo leggero e soprattutto si può indossare tranquillamente quando andiamo a lavorare perché è un profumo abbastanza sobrio e comunque molto molto il prossimo profumo è una chicca meravigliosa mamma mia è buonissima allora vi sto parlando delle meteorite le parfum con questo flacone meraviglioso in questo profumo Guerlain ha voluto racchiudere nella versione eau de parfum la caratteristica profumazione di violetta delle famosissime perle le meteorite queste perle colorate questa cipria colorata che va a sublimare l'incarnato a renderlo sì opaco ma allo stesso tempo bello luminoso in questo profumo però Guerlain ha voluto accostare la violetta a tantissime altre note note verdi note fruttate note cipriate rendendo questa violetta più moderna più frizzante più sfiziosa e ancor più giovanile allora è una fragranza fiorita fruttata e cipriata con note di testa di bergamotto nota di mela che conferisce al profumo anche questa parte acidula e delle note verdi le note di cuore sono la rosa e la violetta mentre le note di fondo sono date dal muschio bianco e le note legnose quindi abbiamo un po' di tutto in questo profumo abbiamo la nota fiorita data dalla mela abbiamo la nota scusate abbiamo la nota fiorita data appunto dalla rosa e dalla violetta la nota fruttata che è data dalla mela e poi le note cipriate un po' di violetta e abbiamo anche note legnose allora questo è un profumo che se avete appunto mai sentito le perline le meteorite la cipria di Guerlain il profumo è quello è un classicissimo profumo alla violetta ma certamente una profumazione un po' più moderna in chiave un po' rivisitata per renderla ancora più portabile ancora più giovanile e più briosa la boccettina ricorda tantissimo il terracotta ma il terracotta nasce come profumo estivo io lo uso anche in inverno e non sono d'accordo su questa definizione perché secondo me vabbè ve ne parlerò tra poco e quindi è più incentrata sui colori bronzo e oro mentre questa versione un po' più romantica e che ricorda anche le confezioni delle meteorite è più incentrata sul rosa e sulla tonalità argento questo è un profumo molto romantico molto femminile leggero anche questo profumo nasce proprio per la primavera e per l'estate è un profumo che trasmette leggerezza quindi ci lascia abbandonare i pensieri negativi i pensieri che ci preoccupano quindi è un profumo che può essere tranquillamente indossato in quelle giornate in cui ci sentiamo particolarmente tesi arrabbiati affaticati pensierosi questo è un profumo che ammette il buon umore che trasmette una sensazione di positività e di leggerezza anche in questo caso è un profumo questo profumo mi fa pensare alle camicie di sangallo in quel cotone tutto ricamato bello leggero fresco magari durante una passeggiata magari non so in un'isola a stromboli a piedi scalzi sì questa è l'immagine che ho quando indosso questo profumo ed è un profumo che devo dire ha una sua una sua identità ed è un profumo che ha anche una buona durata sulla mia pelle ovviamente la durata è sempre molto molto soggettiva quindi su di me devo dire che ha una buona durata è ovvio che non è un super profumo non è un profumo da scia è un profumo molto delicato molto intimo ma che sa di pulito e quindi a me piace veramente tantissimo sono felicissima di averlo acquistato devo dire che quando l'ha commessa allora me lo propose non ero proprio convinta convinta di acquistarlo invece insomma ho fatto benissimo perché è un profumo veramente che apprezzo ve l'ho anticipato durante la descrizione delle meteorite e parliamo subito di terracotta questa meraviglia allora il flacone vedete identico però più incentrato sulle tonalità calde perché questo profumo nasce per la stagione estiva ma io trovo che sia un profumo perfetto anche durante la stagione invernale perché è un classico profumo al tiaree che vuole ricordare le creme solari però è molto diverso dal classico tiaree è meno stucchevole è meno ci sento meno quella nota sintetica proprio chimica ed è un profumo che mi piace tantissimo allora vi vado a leggere le note olfattive allora questo è un profumo un floreale bianco dolce vanigliato al cocco lanciato sul mercato nel 2014 le note di testa sono il bergamotto il cocco il tiaree e allora qui mi si apre un mondo perché insomma sono le note che io amo amo follemente le note di cuore sono il fiore d'arancio il gelsomino e l'ilang lang e le note di base sono il muschio e la vaniglia allora devo essere onesta in questo profumo quello che predomina assolutamente sono il cocco e il tiaree è il classico profumo appunto che fa pensare ovviamente all'estate ai ai costumi ai pareo con queste fantasie hawaiiane tropicali è un profumo che ci ci immerge immediatamente in uno scenario estivo io mi immagino già con la mia crema solare sdraiata sulla battigia con le onde del mare con il mare che mi accarezza con gli occhi chiusi che sogno sogno la mia terra i miei profumi le mie sensazioni meravigliose legate alla Sicilia comunque legate al mare però ha in sé qualcosa che lo rende caldo che lo rende cremoso e che lo rende adatto anche alla stagione invernale perché si trasforma in inverno questo è un profumo che si trasforma diventano un cocco e un tiaree molto più avvolgenti molto più caldi che danno proprio una sensazione di comfort di piacevole carezza e quindi questo è veramente stupendo tra tutti i profumi che io possiedo di questa tipologia quindi al cocco e al tiaree senz'altro il terracotta di Guerlain è parere mio personale il migliore in assoluto il migliore il più il più cremoso il più quello che mi trasmette più proprio quella sensazione di di beatitudine che io provo quando sto al mare quindi io questo profumo profumo è sempre all'interno di questa boccetta la boccetta con le apine e sto parlando dell'Istant Magique allora questo è uno de parfum ed è è un profumo strepitoso questo allora vi leggo subito la piramide olfattiva poi insomma ve ne parlo allora questo è un profumo talcato floreale ed è quello riformulato perché la boccetta non era questa floreale legnoso alla mandorla un profumo lanciato sul mercato nel 2007 le note di testa sono l'anice il bergamotto e il limone questo è uno spettacolo questo profumo poi abbiamo le note di cuore di mimosa garofano violetta fresia e rosa le note di base abbiamo l'iris il sandalo la mandorla la vaniglia il cedro il muschio e il cedro scusate è il muschio bianco allora questo è un profumo raffinato è un floreale delicatissimo ma proprio l'aggettivo che più lo descrive è proprio raffinato è un profumo elegante equilibratissimo non è troppo sobrio non è troppo invadente c'è un equilibrio perfetto tra le note quello che si percepisce tantissimo quando si va ad annusare immediatamente ma proprio immediatamente sono certamente le note di iris e di violetta è un profumo che sa proprio di pulito è un profumo che sa proprio di pulito raffinato pulito e leggero leggero romantico molto femminile delicato mi fa pensare a una giornata di pioggia in cui poi esce fuori l'arcobaleno perché racchiude in sé la leggerezza e la trasparenza di quelle piogge così di aprile che vanno un po' a come dire a rinfrescare più che altro magari quella pioggia magari di fine aprile in cui magari la giornata è particolarmente calda ecco per il periodo dell'anno in cui siamo e questa pioggerellina che va leggermente a mitigare a rinfrescare e poi subito dopo esce l'arcobaleno ecco questo profumo mi fa venire in mente quell'immagine lì è una creazione molto molto rilassante molto delicata in cui ovviamente predominano appunto queste note di iris queste note di violetta e ci sento veramente tantissimo anche la mandorla una mandorla non troppo dolce non troppo stucchevole più una mandorla verde questo è un profumo che è certamente semmai dovessi terminarlo visto che non riesco a terminare neanche un profumo visto che ne ho così tanti questo è un profumo che nella mia collezione non deve assolutamente mancare perché è davvero meraviglioso i prossimi due profumi invece fanno parte della linea di Guerlain Acqua Allegoria queste profumazioni che sono più delle acque profumate ma che conservano assolutamente le caratteristiche di uno de parfum sono delle creazioni in cui l'elemento principale è il bergamotto che viene poi accostato a tutta una serie di materie prime dando vita a delle creazioni davvero molto gradevoli molto interessanti il primo di cui vi parlo è ginger piccante e tra l'altro questi profumi sono perfetti per il layering quindi per essere utilizzati anche in combo con altre profumazioni sempre della stessa linea dunque questo è il ginger piccante con queste confezioni con queste boccette che sono semplicemente meravigliose ed è la prima creazione che io ho acquistato conto certamente quando sarà possibile di andare a sentire mandarino e basilico che mi hanno detto essere davvero molto molto gradevole allora questa è una profumazione molto fresca a base appunto di zenzero vi vado subito a leggere quando le trovo è una fragranza esperidata agrumata ed è una fragranza molto sorprendente molto vivace molto frizzante e molto speziata ovviamente allora ginger piccante o no de toilette fresca e luminosa un accordo di deliziose note afrodisiache di zenzero mescolate al sentore delle rose sbocciate al primo mattino ginger piccante lo spirito dello zenzero fresco candito con una nota di rosa allora però io vi volevo proprio leggere tutte le note olfattive se le trovo abbiamo note di testa sono bergamotto limone e zenzero quindi abbiamo questo esordio super super frizzante le note di cuore sono date dal pepe e dalla rosa e le note di base sono il cedro e il muschio bianco allora questo è un profumo il classico profumo con sentori di zenzero ma è più uno zenzero uno zenzero candito ed uno zenzero molto smorzato dalla presenza della rosa è un profumo fresco luminoso vivace allegro perfetto per queste giornate quindi da indossare nei momenti in cui ci sentiamo un po' giù perché è un profumo che regala benessere che regala buon umore che regala una sferzata proprio di di gioia di frizzantezza è un profumo frizzicarello oserei dire e insomma per gli amanti dello zenzero io lo trovo veramente perfetto fresco allegro gioioso perfetto per le sere d'estate ma perfetto da indossare anche al mattino perché no per andare a fare una passeggiata per andare a fare una bella pedalata fra i campi meraviglioso e vi dirò che malgrado tutto malgrado siano delle acque profumate hanno anche una buona sempre della linea acqua allegoria profumo acquistato a Parigi quindi sono molto legata a questo profumo una non una limited edition ma una fragranza creata e distribuita soltanto in alcuni punti vendita in alcune città viceversa si può acquistare con molta facilità ovviamente online e sto parlando di Coconut Fizz guardate il colore è bellissimo allora Coconut Fizz è un profumo vi dico subito completamente diverso scordatevi tutte le creazioni al cocco innanzitutto è un profumo che può essere tranquillamente indossato anche nelle stagioni fredde è un cocco completamente diverso perché è più un'acqua di cocco è proprio quel liquido insomma che troviamo proprio l'acqua di cocco quando andiamo ad aprire una bella noce di cocco quindi non è un cocco cremoso ma è un cocco e neanche troppo dolce stucchevole ma è un cocco molto molto più leggero e più fresco e vi vado a leggere subito la piramide olfattiva allora abbiamo note di testa di nettare di cocco e bergamotto le note di cuore sono i frutti acquatici e la fresia e le note di base sono il sandalo e la fava tonca quindi è un profumo con note fruttate note acquatiche e note e note legnose allora non è un sandalo molto molto percepibile al mio naso e non sento neanche tantissimo la fava tonca questo è proprio un nettare di cocco miscelato al bergamotto quindi leggermente frizzante e sento tantissimo le note acquatiche questo è un profumo meraviglioso non è ripeto il classico profumo al cocco quindi non pensate a qualcosa di eccessivamente chimico sintetico artefatto è molto molto più realistico e è proprio un profumo completamente diverso molto più fresco più leggero proprio appunto per la presenza delle note acquatiche e sono felicissima di averlo trovato volevo appunto sentirlo non l'avevo acquistato a scatola vuota a scatola chiusa scusate e perché avevo paura e timore che fosse qualcosa di troppo simile a cose già sentite e risentite a profumi comunque al cocco che io già possiedo e invece mi ha completamente sorpresa perché è proprio tutto un altro mondo ed è anche questo un profumo che regala il buon umore che certamente evoca qualcosa di legato all'estate quindi come mi immagino quando indosso questo profumo su un bel materassino sdraiata in acqua a godermi a godermi i raggi del sole a godermi la salsedine il profumo del mare la carezza del mare che mi dondola ma senz'altro è un profumo certamente interessante da indossare durante la stagione invernale perché non solo ci regala la possibilità di sognare di immaginare l'estate a me personalmente mi dà la possibilità di immaginarmi nella mia terra con i miei affetti ma è sicuramente un profumo che durante la stagione fredda sviluppa perché io ovviamente l'ho acquistato questo a dicembre quindi ho avuto modo di indossarlo anche in inverno tira fuori una nota che avvolge che scalda ma sempre con questo sentore di cocco che ci lascia sognare quindi davvero molto molto interessante come profumazione dunque io ho finito questi sono tutti i miei profumi Guerlain spero di non essermi dilungata troppo in realtà non me ne rendo conto quando parlo di profumi così vado a ruota libera dunque io saluto ancora una volta Mary ciao tesoro ti mando un grosso bacio grazie per avermi ispirato per questo per questo video vi abbraccio tutti 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 mi raccomando siamo forti rimaniamo a casa e vi mando tanti bacini ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao